Un anno fa le elezioni, un anno dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale. L'assise non approva il conto consuntivo e ora si va verso lo scioglimento definitivo del Consiglio Comunale. 12 mesi costellati da decadenze, addi, strappi, amicizie finite, schieramenti ormai disgregati. E ora Pagani deve guardare avanti tanti nomi in lizza per il prossimo governo della città, ma sono ancora tante le incognite da sciogliere. Intanto, in merito alla questione Consiglio Comunale e al mancato approvazione del conto consuntivo, abbiamo raccolto le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Comunale Enza Fezza, Di Lello De Prisco, già candidato sindaco alle scorse amministrative, ed è l'ex sindaco della città, Salvatore Bottone. Io penso che chi viene eletto ha il dovere di rispondere alla città, di stare lì e lavorare per il ruolo che ricopre. Di mettersi significa abbandonare un attimo la barca, abbandonare quelle che sono state le due idee che ti hanno poi portato ad una candidatura e le persone hanno avuto fiducia e ti hanno eletto. Abbiamo vissuto dei momenti particolari, quali l'ingandidabilità, quindi la decadenza, c'è stata la fase di contrapposizione dalle parti interne per cose ben note a tutti. Alla fine la ciliegia sulla torta è stata le dimissioni del facente funzione che ci hanno preso alla sprovvista e ci hanno indotto poi ad essere lì, al fianco dei commissari, a lavorare e cercare di portare a termine il mandato che, tra virgolette, volevamo, ciò che volevamo fare nel mandato elettorale, ma alla fine non c'è stato possibile perché questo consuntivo non è figlio nostro, è un concordato di gestione degli anni di gestione della precedente amministrazione e con una relazione dei revisori fatta in quel modo, alla fine tutti i consiglieri non ce la siamo sentita. Ieri l'epilogo di questa esperienza amministrativa, il mancato voto al consuntivo, provoca lo scioglimento anche del Consiglio Comunale. Lei da tempo auspicava che tutti andassero a casa? Non solo auspicavo che tutti andassero a casa, avevo detto che sarebbe stata una consigliatura brevissima e che il Consiglio Comunale in effetti non aveva modo di essere, tant'è che nei consigli comunali che si sono svolti in questo anno sono consigli che non hanno determinato assolutamente niente se non chiacchiere. Gli unici consigli comunali dove si poteva determinare qualcosa, quello di ieri ha determinato lo scioglimento e l'altro consiglio è quello dove fu determinato il dissesto economico, peraltro, che si poteva evitare. Ragion per cui, veramente fatto salvo la breve esperienza di giovani consiglieri comunali, questo è stato un Consiglio Comunale nell'anno del tutto inutile se non forviante per la città. Nella giornata di ieri, ad un anno esatto di distanza dalle elezioni amministrative, cade anche il Consiglio Comunale per il mancato voto al consuntivo. Un'analisi di quello che è accaduto? In primis siamo ancora in attesa di quello che succederà da parte della Prefettura, perché la Prefettura su Pagani ne ha combinate tante e quindi non so quello che può succedere anche in questo momento così palese. Diciamo che per la città è finito un incubo, un'amministrazione peggiore di questa non si era mai vista nella nostra comunità e quindi possiamo dire e fare un sospiro di sollievo perché è andata via una classe amministrativa, una classe politica che ha creato disastri a questa comunità, a chi nel corso degli anni durante la mia amministrazione faceva terrorismo politico e attaccava continuamente, a chi ha continuato questo tipo di attività politica, non intendere chi sta dall'altra parte come avversario ma come nemico da abbattere. Quindi Salvatore Bottone era il loro nemico da abbattere in campagna elettorale anche durante questa fase di amministrazione, questi consigli comunali, dove scioglievano, nel vero senso della parola, i loro supporter a denigrare, minacciare, insultare in continuazione il nemico politico che era Salvatore Bottone. e quindi io credo che finalmente abbiamo messo una linea in questa fase per quanto riguarda questo tipo di amministrazione che è stata un'amministrazione veramente disastrosa per la nostra comunità.